Il segno, il mensile della Diocesi di Milano, per capire cosa succede nella chiesa ambrosiana e nel mondo. Approfondimenti, analisi, notizie utili. Da 57 anni ogni mese, vicino a te, alla famiglia e alla tua comunità. In questo numero, quel 68 che ha rivoluzionato la storia. A 50 anni dall'assassinio di Bob Kennedy, profeta di un mondo che non è stato mai. Del Pini a Cuba, una chiesa povera, ma fiera. Lo trovi in parrocchia e nelle più importanti librerie cattoliche, oppure puoi abbonarti. Seguici anche su www.chiesadimilano.it e iscrivendoti alla newsletter. Il segno, il mensile della Diocesi di Milano.